Divertenti perché ci rendiamo conto che alcune storie che facevamo erano noiose Sì anche se erano molto belle Comunque questo è il penultimo episodio della prima stagione di Una vita a palazzo Noi vi mandiamo un bacione e un abbraccio E ci vediamo al prossimo video Mi raccomando non mancate perché domenica prossima ci sarà l'episodio di Una vita a palazzo L'ultimo episodio della prima stagione Ciao Ciao Lolina Lolina noi vi vogliamo bene